Nelle pratiche del mandala ho imparato moltissimo dal buddismo tibetano. Lo scopo principale del buddismo è il raggiungimento dell'illuminazione. Nelle meditazioni tibetane il praticante contempla il vuoto, cerca di raggiungere quello stato quando la coscienza sorpassa il dualismo della realtà tridimensionale. Vorrei farvi vedere due immagini perché io nella pittura sono molto curiosa, sono esploratrice e la mia formazione è comunque basata sulla tradizione europea. Allora la prima immagine ha a che fare con questa tradizione e rappresenta comunque il viso sacro della madre natura o del padre cielo, quello che preferiamo, o entrambi in uno. Questo viso che traspare attraverso il paesaggio marino dove c'è il mare, dove c'è il cielo con le stelle e con il temporale, c'è l'arcobaleno, c'è la terra bagnata, carezzata dalle onde del mare. C'è anche il pesce che rappresenta la vita, che nasce dall'acqua. Ecco, questa immagine per me rappresenta il divino in me che vedo osservando, contemplando la natura. Noi durante l'incontro di Tanca andremo a studiare questo concetto del divino che nasce dalla natura proprio seguendo il canone tibitano. Dipingiamo l'immagine del Buddha che risiede sul trono del fiore, del fiore del loto e questo fiore cresce direttamente dal lago, dall'acqua. L'acqua rappresenta un elemento sacro, un elemento fondamentale per la vita sul nostro pianeta. E l'acqua fa parte anche degli elementi basilari che fanno parte della creazione dell'universo. Secondo la tradizione tibitana, l'universo nasce dall'elemento spazio. L'elemento spazio o etere esiste sempre. E a un certo punto, quando arriva la scienzilla creativa del divino, gli altri quattro elementi iniziano ad interagire. L'aria, il fuoco, l'acqua e la terra fanno sì che nasce l'universo nuovo. Dipingere questo processo, fissare la nascita dell'universo è molto importante per il lavoro interiore. Perché in questo modo noi possiamo lasciare andare il vecchio, lasciare andare il passato che non ci serve più, ha già fatto il suo lavoro, ringraziamolo. E adesso stiamo celebrando la nascita di esperienze nuove, di un nostro universo, il nostro microcosmo personale, tutto nuovo. Questo è anche una bella prospettiva per noi, di condividere i nostri talenti e di realizzarci come esseri totali. Celebriamo la nostra apertura per poter interagire con la società, con la comunità, in un modo nuovo. E vi aspetto al seminario di Tanca, il 9 aprile, alle ore 10.30, allo Zambra Studio, in Via Lugo 10, Bologna. Grazie!